Noi siamo nati solamente nel 2014, però abbiamo avuto tanta tanta carne al fuoco e anche quest'anno la stiamo rimettendo sul fuoco, sulla brace. Abbiamo avuto questa pensata della formula non solo calcio, cioè diciamo che la scuola calcio e anche quest'anno la pallavolo con il mini volley dalla neonata società Virtus Volley Teramo abbiamo dato la possibilità a tanti genitori di non far far sì che i bimbi loro facciano solamente uno sport. Diamo la possibilità ovviamente con l'iscrizione, diamo la garanzia di svolgere più sport. Questo che vuol dire? Vuol dire che il bimbo o la bimba appunto ha la possibilità di trovare lo sport, quello che più la fa rendere da un punto di vista anche diciamo sociale perché sappiamo tutti quanti che è lo sport che sceglie il bambino, non è il bambino che sceglie lo sport. Cito un esempio, se io faccio 10 canestri e 2 gol chiaramente mi metto a giocare più a basket che a calcio e quindi è lo sport che sceglie. A questo punto il bambino si sente più importante e quindi siamo noi in certo senso, ci piacerebbe esserlo a veicolare il ragazzo verso questo sport. Chiaramente la nostra intenzione è quella di dare un percorso cronologico a questi ragazzi, tant'è che abbiamo intenzione di svolgere corsi di nuoto da ottobre a dicembre, lo sci da gennaio a febbraio, poi vogliamo fare a marzo e aprile anche vediamo un po' il corso di tennis e di atletica e poi anche con la mountain bike finire appunto l'anno e la palla a volo però farla seguire tutto l'anno sia maschile che femminile. Ecco ci siamo dati un obiettivo particolarmente difficile e speriamo che insomma di riuscire a svolgerlo. L'unica cosa i genitori noi li abbiamo interpellati durante l'anno scorso e sono stati molto propensi, ci hanno promesso che ce la mettono tutta. Bene, peraltro i ragazzi saranno seguiti non soltanto da istruttori legati alle varie discipline sportive ma un'attenzione a tutto tondo anche all'aspetto nutrizionale, all'aspetto psicologico. Hai preso in pieno proprio quello che è il tema perché quest'anno abbiamo anche uno staff serio, uno staff che insomma professionalmente parlando fa invidia a molti e quindi noi cerchiamo di dare un'importanza al bambino a tutto tondo, a 360 gradi, non solo sportivo ma anche sociale e anche appunto psicologico.